La vigila di Capodanno del 1999, all'alba del nuovo millennio, l'allora primo ministro Vladimir Putin inaugurò l'abituale discorso di fine anno. Tutti si aspettavano di vedere il presidente Boris Yeltsin, ma le cose andarono diversamente. Quella sera Yeltsin avrebbe presentato ufficialmente le proprie dimissioni. Per qualcuno la notizia di quelle dimissioni non fu un fulminaccio al sereno. Contro Yeltsin c'erano già stati tre tentativi di impeachment. Ciò nonostante l'evento fu di importanza storica. Dal 2020 in poi tutto il mondo associa inevitabilmente la Russia con Vladimir Putin. Negli ultimi 20 anni su di lui si è andato a creare un vero e proprio culto su internet dai mene, alle canzoncine rap e ai video di Putin che canta. Indubbiamente gli storici del futuro quando penseranno alla Russia degli anni 2000 dovranno fare i conti con quest'uomo, si spera metaforicamente. Cerchiamo di fare chiarezza su quello che in molti hanno definito essere il nuovo zar di Russia. Piccolo annuncio prima di cominciare. Siccome voglio che il canale faccia il grande balzo in avanti, ma ho permettendo, sto cercando di trovare un motion designer con il contro Zebedei per smollargli tutto l'editing del video così da aumentare la produzione del canale. Chiunque sia in cerca di un lavoro fisso e che voglia lavorare con serietà e velocità e soprattutto che sia in grado di cercare video e immagini esattamente più o meno come ho fatto fino a ora in autonomia e soprattutto chiunque abbia la capacità di ricreare stili di canali come Le Monde o Vox, mandi un curriculum con portfolio a questa mail. Sì, lo so, ho ancora Hotmail e ne vado fiero. E ora, dopo lo spot alla Vanamarchi, possiamo partire seriamente. Cominante amore. Doroghi bạn, сегодня, в новогоднюю nonna, io, come e voi, con amici i am a seguito scopovii ho sentito parlata di B voice generato di B修. But non si, in questa situazione, 31 decadre 1999, il primo presidente Grazie a tutti. non c'è una voce di voce in strada. La libertà del nome, la libertà di informazioni massifiche, la libertà della propria proposta. Questi elementi fondamentali civilizzati saranno sicuramente proteggendo il paese. Gli anni 90 del 1900 furono un periodo turbolento per la Russia, non solo per i cambiamenti avvenuti a seguito del crollo dell'Unione Sovietica e del muro di Berlino, ma anche a causa della conseguente crisi economica legata alle privatizzazioni della perestroica e all'apertura al libero mercato. Fu una terapia ad urto terrificante per l'impreparata economia pianificata di stampo sovietico. Il governo perse completamente il controllo dell'economia nazionale. Con la diminuzione del 17% del PIL, nell'arco di tre mesi i prezzi dei beni comuni quadruplicarono, facendo così precipitare il tenore di vita, generando scarsità di beni di prima necessità come il cibo e facendo bruciare ai russi gran parte dei propri risparmi. A questi fatti, nell'agosto del 1998 il rublo perse il 70% del suo valore, un tracollo che causò un nuovo aumento dell'inflazione al 14%, portando innumerevoli imprese al fallimento e gli oligarchi alla speculazione sui costi delle materie prime. Gli investitori stranieri sparirono nelle strade, piene di gente che faceva la fila per un pezzo di pane, le città erano investite da un incremento della criminalità e i licenziamenti divennero all'ordine del giorno. Dopo il colpo di stato del 1991, l'allora presidente Yeltsin, che aveva scelto la strada del libero mercato, avviando una partnership strategica con gli Stati Uniti, si adeguò immediatamente alle regole del nuovo sistema globale. Tuttavia, nella fretta di velocizzare il passaggio verso il libero mercato, Yeltsin e in particolare il suo ministro delle finanze, Yegor Gaidar, si dimostrarono incapaci di personalizzare il modello capitalista occidentale alle condizioni della società russa. La stagione di Yeltsin fu un susseguirsi di privatizzazioni selvagge di tutte le grandi aziende statali. Ardenti sostenitori di questa strategia furono Anatoly Chubais, ex dirigente della vecchia azienda statale dell'elettricità, la Rao US, e il miliardario Alexei Mordashov, il cosiddetto re dell'acciaio, proprietario del gruppo siderurgico minerario Severstal e quarto uomo più ricco di Russia. Permettendo acquisti di prezzi stracciati di titoli delle grandi società sovietiche, le grandi privatizzazioni incentivarono l'ascesa degli oligarchi, i nuovi signori della Russia, manager, grandi azionisti e ceo di gruppi finanziari come i famosi sette banchieri, i semibanchi Irshina, che in sostanza al posto di Yeltsin divennero i veri detentori della vita politica ed economica del paese tra il 1966 e il 2000. In termini terra terra, i nuovi ricchi applicarono lo schema prestiti per azione, cioè presto denaro cash allo Stato che se la sta passando piuttosto male, visto che è in perenne deficit, e in cambio mi faccio dare le azioni delle sue aziende, a prezzi ovviamente di favore. In pratica lo Stato faceva così. Posso avere un po' di pecunia? Ecco qui l'affare, o meglio il furto, del secolo che permise ad esempio la svendita della Yukos, cioè un'azienda petrolifera da 2 miliardi di dollari al modico prezzo di 350 milioni. Dalle privatizzazioni, signori miei, Dömer Minaro Herrera sarebbe potuta nascere una nuova fascia media, cioè una classe borghese benestante, ma non fu affatto così. A beneficiarne fu soltanto la classe agiata. La ricchezza rimase concentrata nelle mani di pochi e la forbice tra ricchi e poveri si ampliò ulteriormente. E nel mentre che l'indigenza finì per colpire il 40% della popolazione, la Russia, colpita da pesantissime speculazioni sui suoi titoli di Stato, arrivò al default nel 98. Yeltsin, che negli ultimi anni si era mostrato sempre più debole e stanco per i vari problemi cardiaci e la sua controversa relazione con l'alcol, esasperò i problemi di base che già esistevano nelle ultime fasi di vita dell'Unione Sovietica di Gorbachev. Dal crollo dell'URSS, Yeltsin aveva plasmato un sistema presidenziale, da molti politologi russi definito come una monarchia elettiva, dove il presidente governava essenzialmente come un monarca, ma che era comunque soggetto a elezioni periodiche formali. Di fronte all'instabilità di un presidente come Yeltsin, sempre più incapace di governare e di controllarsi, le voci su un suo possibile candidato si andarono intensificando. Prima di arrivare a Putin, il presidente però mise alla prova, nell'arco di un singolo anno, tre nuovi primi ministri per valutarne le capacità, piuttosto che per costruire un governo saldo. Sergei Kirienko, Yevgeny Primakov e Sergei Stepashin. Yeltsin aveva ragioni molto pragmatiche per preoccuparsi dell'identità del suo successore. Nel feroce mondo della politica russa, una volta fuori dal giro, per il presidente non ci sarebbero state più garanzie sui propri beni e sul benessere della propria famiglia. Yeltsin aveva bisogno di qualcuno fidato, che non lo spogliasse di tutte le sue ville, dei suoi servizi medici, dei privilegi governativi e che soprattutto non gli facesse cause milionarie. Lo stesso valeva per il suo entourage più stretto, la cosiddetta famiglia. Dalla figlia e consulente di immagini Tatiana Diacenco al genero Valery Okulov, dirigente della compagnia di bandiera Aeroflot. Fu in questo clima rovente che l'enigmatica figura di Vladimir Vladimirovich Putin cominciò a muoversi e soprattutto a farsi notare. All'epoca del default della Russia, Putin ricopriva il ruolo di capo dell'FSB, il dipartimento di servizi segreti di sicurezza che ormai aveva sostituito il collassato Kegebe sovietico. Prima di essere scelto da Yeltsin come direttore dei servizi segreti, Putin aveva ricoperto diversi ruoli, tra cui quello di braccio destro al sindaco di San Pietroburgo, il tutto partendo pur sempre dal basso. La sua famiglia di Leningrado era di origini umilissime. I suoi bisnonni erano addirittura inseriti nella servitù della gleba. Gli anni al servizio del Kegebe, come da lui ammesso, furono fondamentali nel dargli una formazione, una disciplina, ma furono anche una sorta di intralcio e non poche volte. I saluti ossequiosi dei membri dell'esercito nei suoi confronti, la sua camminata slanciata con il braccio destro aderente al corpo, tutto questo rimandava inevitabilmente al retaggio militare di Putin. Nei primi anni di servizio Vladimir servì sul fronte occidentale della cortina di ferro, vale a dire nella Germania Est, a Dresda. Lì aveva imparato il tedesco e per più di cinque anni tenne un monitoraggio costante delle attività e dei traffici degli occidentali sul territorio, ma con il crollo del muro di Berlino Putin fu costretto a reinventarsi da zero, dimettendosi dal Kegebe. Il 1991 fu un anno cruciale. L'URSS si ritrovò di colpo investita da cambiamenti epocali, a partire dal push di agosto fino alla bastonata di Yeltsin al Partito Comunista per arrivare al conseguente crollo formale dell'Unione. Nel caso della dissoluzione Putin agì da freddo spietato analista. In quell'anno il futuro presidente aveva da poco riallacciato i contatti con il suo vecchio relatore all'Università Statale di San Pietroburgo, Anatoly Sobjak, che all'epoca, dopo aver perso il suo secondo mandato come sindaco, fu investito da accuse di corruzione, evasione fiscale, frode e possesso di conti all'estero. Ma aveva anche dei difetti. Anche Putin, entrato nell'amministrazione comunale di Sobjak, finì nel mirino della stampa. Putin, si scriveva, oltre a possedere una gigantesca villa lussuosa a Biarritz, aveva mantenuto rapporti accondiscendenti con la criminalità organizzata di San Pietroburgo e con diversi imprenditori di varia nazionalità. Come affermato dal giornalista Nikolai Trotsky, In Russia, senza la corruzione, il potere non esiste. Sobjak e Putin non erano diversi dagli altri. All'epoca il sindaco di San Pietroburgo fu al centro del cosiddetto scandalo della fame. Con la scarsità di cibo dovuta alla crisi economica, l'amministrazione di Sobjak si vide costretta a vendere edifici, licenze e beni governativi a grandi aziende private, allo scopo di trovare fondi con cui affrontare la carestia. Centinaia di milioni di rubli finirono nel buco nero della malavita organizzata e, tra i soggetti coinvolti, ci fu veramente di tutto. Criminalità locale, servizi segreti, burocrati governativi, pezzi grossi del creminino. Come riportato dal reportage di Artem Kruglov, a supportare e coordinare questa intricata rete di corruzione che si smezzava il denaro pubblico ci fu niente meno che anche lo stesso Putin. L'ex sindaco di San Pietroburgo, il suo amico, fu messo all'agonia mediatica dinanzi a noi di Helsin furibondo, non tanto per aver commesso il misfatto quanto per essere stato colto con le mani nel sacco. Dal canto suo, Putin, sul quale i giornali non riuscirono ad andare oltre le semplici insinuazioni, riuscì a evitare il processo e a mantenere intatta la sua nomea. Fu in quel momento fangoso che a Mosca uno dei funzionari del Cremlino, Alexei Bolshakov, colse il crollo di popolarità di Sovjak per arruolarne i membri più validi dello staff personale e trasferirli nel dipartimento agli affari del presidente Yeltsin. Tra questi c'era proprio Putin, visto da molti come un funzionario abile, tenace e soprattutto leale. Un pregio raro, considerato il momento storico. In quel contrasto tra la misera delle masse e l'arricchimento degli oligarchi che agivano da veri e propri feudatari medievali, i russi manifestarono più volte il desiderio di un cambiamento. La storia lo esaudì con l'arrivo di Putin, che dal 1999 aveva appena concluso il suo primo anno come capo dell'Efesbe, ruolo al quale aveva ambito fin dal ragazzo dopo aver visto il telefilm del 1968 Lo Scudo e la Spada, una storia di avventura e spionaggio ambientata nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Yeltsin, che con l'antipatia che i russi nutrivano nei suoi confronti rischiava di diventare il capo espiatorio dei problemi nazionali per aver portato il paese sul baratro del default, aveva bisogno, disperato, di un sostituto dalle caratteristiche come Putin. Yeltsin rivelò più in là nei anni che ci vollero quattro appuntamenti privati in compagnia di diversi businessmen milionari per convincerlo ad accettare la presidenza, passando attraverso delle elezioni formali con dei concorrenti marionetta. Tra questi soltanto l'allora leader del Partito Comunista, Gennady Zyuganov, fu l'unico a costituire una sorta di minaccia per la corsa alla presidenza. Prima di far diventare presidente Putin era però necessario farlo diventare primo ministro, carica che Putin ricoprì soltanto per appena 4 mesi, il tempo formale per farlo evolvere in presidente. Yeltsin aveva le idee già chiare, ma nelle stanze del potere al Cremlino non tutti furono d'accordo con la sua scelta. La vecchia classe burocratica sovietica vedeva infatti in Putin un'altra marionetta in mano agli oligarchi e all'élite finanziaria capitalista. Ma proprio quando l'opinione pubblica poteva essere facilmente manipolata contro il nuovo arrivato, il destino volle diversamente. Il 4 settembre 1999, pochi giorni dopo la nomina di Putin a primo ministro, nella cittadina di Buinaxk, in Dagestan, esplose un'autobomba parcheggiata sotto un palazzo. Le vittime furono quasi una settantina. La colpa dell'accaduto fu addossata ai terroristi ceceni che, dal 1994, avevano dichiarato l'indipendenza della Repubblica Cecena dalla Federazione Russa, dando vita a un violentissimo conflitto con Mosca interruttosi soltanto due anni più tardi. Di lì, a pochi giorni dall'attacco a Buinaxk, a Mosca un intero palazzo saltò improvvisamente in aria. Un disastro che costò 106 vittime e più di 600 feriti. Quello non fu l'unico edificio residenziale che i ceceni fecero saltare in aria con l'uso della ciclonite. La ciclonite era una polvere altamente esplosiva. Nel paese si diffuse così il panico. La gente aveva paura a salire sui mezzi pubblici. Molti addirittura finirono per abbandonare le grandi città nel timore di subire altri attacchi. Secondo alcune segnalazioni, quegli eventi non furono altro che delle operazioni segrete dei servizi di sicurezza russi finalizzati a una cospirazione che velocizzasse l'ascesa al potere di Putin. Però nulla di verificato. A dirla tutta ci vorrebbe l'immaginazione di Oliver Stone per generare queste teorie. La Cecenia fu uno dei tanti problemi risolti di Yeltsin, da quando, nel 1991, la Repubblica divenne a tutti gli effetti un enclave in mano alla criminalità locale. La dura repressione nel corso dei due conflitti ceceni si guadagnò le aspre critiche dei mass media occidentali, mentre queste stesse critiche furono poi giudicate come pura ipocrisia dal punto di vista di Mosca. Il caso del fotoreporter Andrei Babizky fu la cartina di tornasole che l'Occidente utilizzò per giudicare i metodi poco democratici di Putin. Babizky, giornalista di Radio Liberty che lavorava in Cecenia, venne arrestato, minacciato e picchiato dalle forze di sicurezza russe perché accusato di schierarsi a favore dei ribelli. Putin ne descrisse le azioni come quelle di un traditore. Un simile atteggiamento non era comunque fuori dal comune se ci pensiamo bene. Durante il conflitto irlandese che scoppiò alla fine degli anni sessanta, ai media britannici fu proibito di trasmettere in televisione interviste di rappresentanti dell'Ira e del Sinn Fein. Pena il carcere. Risolvere la questione Cecena fu per Putin più fondamentale che per Yeltsin. Per questi si trattava infatti soltanto di salvaguardare una regione dove sarebbe dovuto passare l'allaccio dell'oleodotto che collegava la Russia alle riserve di petrolio dell'Azerbaijan. Per Putin fu invece un banco di prova della tenuta dello Stato. Persa la guerra in Cecenia, la Russia avrebbe perso il controllo dell'intero caucaso settentrionale e forse addirittura le altre 21 repubbliche all'interno della federazione. In tutto questo, i media televisive russi furono implacabili nel martellare incessantemente la popolazione. Nei telegiornali si ripeteva degli eroici sacrifici dei soldati russi, delle sofferenze dei civili, della disumanità dei criminali ceceni, della determinazione del nuovo primo ministro e anche dell'ipocrisia dell'Occidente. Un ritornello che si ripete più e più volte fino alla dimissione di Yeltsin. A differenza della prima guerra, il secondo conflitto cecenogo godette invece di un grande consenso tra la popolazione. Fu normale che agli occhi dei cittadini così Putin divenne subito un elemento popolare, l'idolo che si stagliava dinnanzi ai pericoli del terrorismo. Il paese aveva bisogno dell'uomo forte e lui, Putin, entrò perfettamente nel ruolo. «L'uomo russi si tratta solo per le basi dei terroristi, noi dobbiamo presiedere i terroristi ovunque, all'aeroporto, all'aeroporto, voi mi scusate, lo scusate e lo scusate e lo scusate e lo scusate. Il problema è finito». Anche se sono rintanati nel cesso, noi li annienteremo. Una promessa che divenne un tormentone, in uno stile, un tono, che faceva l'occhiolino alla cultura di periferia, alla società meno educata. Con quel mocit, quel li annienteremo, termine proveniente dal gergo di strada, Putin si fece subito apprezzare anche dai criminali, che normalmente erano molto scettici dei politici. La legittimità della presidenza Putin se l'assicurò con la guerra in Cecenia. Le dimissioni di Yeltsin furono soltanto la formalità convalidata dai 39 milioni di voti incassati da Putin, che all'epoca si candidò alle presidenziali senza essere affiliato ad alcun partito. Insediatosi al Cremlino, Putin evitò di pubblicare un programma. L'unica promessa, disse, è quella di non fare promesse. Ma nel vocabolario del nuovo presidente, un imperativo categorico c'era, l'emarginazione degli oligarchi. Putin si inimicò da subito il potere dei ricchi signori di Russia. Ordini di cattura, esproprio e confisca di bene in loro possesso furono solo alcuni esempi. Il caso di uno degli imprenditori più influenti di Russia, Boris Berezovsky, è emblematico. Un altro investimento strategico non ha nessuna possibilità di investire in Russia, perché non c'è una stabilità politica, non c'è una stabilità politica, non c'è una norma che permette un investimento di proteggere il suo interesse. Non c'è una possibilità di vivere in questo regime, in questo regime di Putin. è anche un parto di russi oligarchi, nel tempo di Yeltsin. Ma altri oligarchi cercano di colere lo stesso possibile, e il triccio è molto semplice, perché russi top-level burocrati, come Putin, come altri, e oligarchi, creano un sistema per come operare nell'Ouest, come usare questo investimento fantastico per comprare aziende e così e così. Poi mettono molti investimenti, investimenti in generale. Legato al mondo della malavita organizzata, Berezovsky controllava buona parte della struttura industriale del paese, comprese le rinomate aziende di alluminio in Siberia. Colpevole di aver accusato il presidente di soppressione della libertà di pensiero, di modifiche antidemocratiche alla Costituzione e di aver partecipato agli attacchi ceceni di Mosca nel 99, Berezovsky, che all'epoca aveva quote nel colosso petrolifero Sibneft insieme al magnate Ramana Abramovich, fu costretto all'esilio in Inghilterra, dove morì in circostanze sospette, trovato senza vita nella camera da letto. Un fatto che si ricollegò ad un altro caso di personaggio scomodo nella lista degli avversari del presidente, la giornalista Anna Politkovskaya, freddata da un sicario nell'ascensore del suo appartamento. Putin seppe sfruttare la situazione di emergenza del paese e il diffuso bisogno di uomo forte per ridimensionare e mettere sotto controllo il potere degli oligarchi. Il presidente preferiva che l'economia fosse gestita da persone fidate, gente capace di muovere i soldi, garantendo in primis anche i suoi stessi interessi, senza avere troppa concorrenza. In un'intervista Berezovsky raccontò dei fondi che lui e il magnate collega Abramovich stanziarono per finanziare la campagna elettorale che permise a Putin di vincere le presidenziali del 2000. Diedi 25 milioni di dollari di mia spontanea volontà quell'uomo. Altri 25 milioni li versò Abramovich. Ma senza dubbio l'oligarca più famoso rimase quello finito peggio di tutti. Mikhail Khodorkovsky, l'uomo più ricco di tutti nel 2003, possessore del colosso petrolifero Yukos e condannato a 10 anni di reclusione per chi è accusato di frode ed evasione fiscale. Con lui in carcere la Yukos finì in bancarotta e gli asset vennero rilevati dalla Rosneft di proprietà statale. Come sottolineato da molti analisti russi, il potere del Cremlino si regge non sul consenso popolare, bensì su quello dell'elite finanziaria. Berezovsky affermò a tal riguardo. In Russia l'opinione del popolo non ha alcun valore reale rispetto a quello dell'elite. Questa elite vanta tra i 2.000 e i 5.000 membri. Oltre a questa, esiste una super-elite, composta da una cinquantina di persone che influenza direttamente le decisioni del presidente. In sostanza, con una classe finanziaria asservita, Putin sapeva già di avere in pugno il paese. Ricostruire e solidificare lo stato russo fu per Putin la priorità. Per far ciò Putin si affidò all'uso dei cosiddetti silovichi, cioè gli uomini di potere, ufficiali e agenti di governo, che sotto la sua fiducia si comportano da occhi e orecchi del presidente in tutto il vastissimo territorio russo. Già allora Putin non era un grande riformatore, non lo sarebbe mai stato. La sua abilità fu quella di sfruttare quello che nel paese era già stato fatto prima di lui, creando una nuova contraddittoria simbiosi tra il capitalismo, l'economia liberale di ispirazione occidentale e l'impronta autoritaria dello stato forte. I mali che affliggevano Yeltsin sarebbero rimasti effettivamente anche con Putin, alcuni addirittura in misura maggiore, altri in misura minore. In primis, quelli che rimasero in misura maggiore furono l'oligarchia, con le sue conseguenze quali la corruzione, il cinismo delle classi finanziarie, il peso dei mass media soggiogati dal cremlino e così via. Certamente Putin non è incolpabile per questo immobilismo di sistema. Sarebbe come pretendere che una persona cambi lo sgabello sul quale sta in punta di piedi mentre ha le mani legate e la corda al collo. Putin, per quanto forte e autoritario possa apparire, è pur sempre legato a un certo tipo di gerarchia che la Russia si porta dietro dai tempi dell'Unione Sovietica. Che se ne dica poi del suo conflitto con gli oligarchi, Putin non ha mai davvero provato a risolvere il problema della corruzione. D'altra parte, come potrebbe il presidente combattere la corruzione se i dirigenti del suo stesso apparato governativo spesso svolgono anche attività di consulenza per le grandi corporation finanziarie internazionali, o addirittura fanno parte dei consigli di amministrazione di industrie e banche. Nel 2003 Putin fece infatti approvare in Parlamento un progetto di legge che cancellava, dal codice penale, la possibilità di confiscare i beni, ovvero uno degli strumenti più efficaci contro la corruzione. Conoscenze personali, fedeltà di una ristretta cerchia al potere, servilismo e tante ombre. Questa è stata ed è la catena di potere che gravita intorno a Putin. Figure di potere che gravitano intorno a Putin come Aleksandr Dugin, il cosiddetto Rasputin di Putin, l'ideologo della sua politica. E il miliardario Evgeny Prigozhin, lo chef di Putin, a capo dell'esercito di mercenari chiamato gruppo Wagner, sono soltanto alcune delle personalità che compongono l'intricata rete di contatti del presidente. La stampa di un certo orientamento si è sempre dimostrata poco clemente con Putin. E lui, d'altro canto, si è sempre abituato alle accuse, specialmente quando l'Occidente indignato lo accusava delle uccisioni scomode di giornalisti, attivisti antigovernativi o persino ex agenti dell'FSB come il famoso caso dell'avvelenamento da Polonio di Aleksandr Litvinenka. Tra l'altro, in questo caso, la BBC sosteneva che Romano Prodi fosse un uomo al soldo del KGB, ma questa è un'altra storia. Tutto ciò non contribuì comunque a preservare la reputazione della Russia, non che altri paesi concorrenti siano stati immuni da questi problemi, sia chiaro, perché quando gli Stati Uniti ad esempio accusavano Putin di essere il mandante di omicidi di oppositori politici, mentre i russi di essere il lato cattivo della Luna, Dark Side of the Moon, appellandosi alla pseudomoralità democratica, in molti si dimenticano dell'ex segretario di Stato americano Colin Powell quando al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite prese in giro il mondo con le prove mai esistite della presenza di armi di distruzione di massi in Iraq. In difesa della libertà fu infatti necessario bombardare democraticamente migliaia di innocenti e mettere in moto lo squilibrio in tutto il Medio Oriente. Ma anche questa, signori miei, è un'altra storia e di questa ve ne parlerò un'altra volta. Uno dei primi problemi della presidenza Putin fu ammansire l'esercito. A preoccupare Putin fin dai primi mesi fu infatti il rancore della classe militare, gonfiato dopo che il 12 agosto del 2000, nel corso di un'esercitazione navale nel mare del nord, il sottomarino Kursk esplose sott'acqua, inabissandosi insieme all'equipaggio. La tragedia della morte dei 107 militari, rimasti bloccati a più di 100 metri di profondità e asfissiati lentamente dalla carenza di ossigeno, fu un colpo durissimo per i primi mesi della presidenza Putin. Secondo alcuni esperti, salvare i marinai sarebbe stato possibile, ma il governo russo declinò le offerte d'aiuto dei paesi stranieri, rinunciando così di fatto a ogni operazione. Questa presa di posizione rigida e spietata fu duramente criticata sia dal popolo russo che dai rappresentanti dell'esercito e della flotta. Attorno alla tragica morte del Kursk vennero create un'infinità di storie. I complottisti più fantasiosi sostenevano che il sottomarino russo fosse stato colpito per errore da uno statunitense e che, in cambio del silenzio di Putin, il presidente Bush avesse cancellato i debiti della Russia. Non appena Putin si rese conto che l'opinione pubblica in Russia aveva un'importanza molto relativa, a differenza di quella dei militari, si affrettò immediatamente a garantire fondi e benefit a tutta la classe. Oltre alle strutture già presenti, Putin ne andò a creare una nuova, chiamata Rosguardia, ovvero la guardia nazionale russa dedita al controllo e all'oppressione di proteste antigovernative. Ricordiamoci, lo scopo di tutta la presidenza di Putin è sempre stato quello di arrivare all'unità nazionale con qualsiasi mezzo, anche a costo di arrivare a smontare l'intera Duma e di porre fino al conflitto tra presidente e deputati. Nella visione di Putin, solo con un paese coeso e con una retorica fortemente patriottica, la Russia avrebbe potuto sfoggiare i muscoli in politica estera. Yeltsin non aveva costruito uno stato, e questo infatti fu uno dei più grandi problemi di Putin, quello che gli diede più gatti da pelare. Per far ciò era inevitabile creare un stato di autorevolezza, di autorità anche repressiva, rispetto a molti di quei valori che gli occidentali definivano democratici. Nel 2000 la Russia era una federazione non federazione. Il federalismo russo era troppo disordinato. Oblast, Krai, Repubbliche, Okrug, ecc. Le 89 regioni che allora la componevano cercavano infatti di sfuggire al controllo del Cremlino, diminuendo drasticamente la riduzione delle imposte e delle tasse. Il primo passo di Putin fu quello di annunciare la creazione di sette superregioni, guidate da deputati pleni potenziari, subordinati al volere del presidente e responsabili di attuare le leggi e le politiche di bilancio previste dal Cremlino. Tuttavia, questo non bastò a garantire maggiore coesione in un paese enorme come la Russia, un paese dove le contraddizioni sono ancora tante e dove i cambiamenti sul fronte politico, da quando Putin è asceso al potere, sono stati davvero pochi. In molti si chiedono se Putin sia stato un bene o un male per la Russia. La vera paura è proprio scoprire questa risposta. Nessuno potrà dire se il successore di Putin sarà migliore dell'attuale presidente, oppure un completo inetto, o peggio, un disfattista. Solo il tempo potrà dircelo. Io ragazzi mi fermo qui. Ho tralasciato le questioni di politica estera e le vicende più recenti di Putin. Ma il tema di oggi non era questo. Era piuttosto come Vladimir si è salito al potere. E poi onestamente questo video non voleva essere lungo come una partita di calcio. 90 minuti di video me li sarei risparmiati per salvaguardarmi la sanità mentale, visto che devo editare tutto da solo. Come al solito ragazzi vi ringrazio di cuore enormemente per avermi fatto compagnia fino alla fine, per supportare il lavorone che c'è dietro ogni video che porto sul canale. Vi ricordo che potete farlo tramite la piattaforma Patreon. Inoltre vi ricordo anche l'esistenza dei miei podcast Storie di Geopolitica, dove tratto argomenti che altrimenti, come ben sapete, non potrei trattare qui su YouTube. Ci vediamo presto, per Aspera ad Astra.